Ecco, in questa sala veniva servita la prima colazione, le petite ce n'è. E qui c'era sempre una pianista che suonava i motivetti in voga. Lo sa, dottor Carbone, che riesco a vederlo con gli occhi suoi? Sì, eh. Meraviglioso era. Pensi di poter riportare l'hotel regina all'antico splendore? Ah, la mia parola di siciliano. I siciliani mantengono sempre le loro promesse. Sarà un albergo bellissimo. Vedi, io sono tanto vecchio e mi piacerebbe tanto vederlo tornare in vita, questo albergo. E lo vedrà. Senta, perché non viene al mio malgemonio, ah? Vengo a prenderla io personalmente. È al momento del taglio della torta. Diamo l'annuncio. Vito Lecata, anzi no, il commentatore Carbone e Vito Lecata insieme riporteranno agli antichi splendori l'albergo chiobbeggio di tutta l'Edolegure. L'hotel regina. Che ne dici, ah? Dico che sei un bravo ragazzo e che ti voglio bene. Ti voglio bene perché sei un terù. Però non posso venire al tuo matrimonio, mi dispiace. Ma sai, troppi acciacchi, Vito mio. Troppi acciacchi. Oh, eccoci qua. Allora aspetta il tuo ritorno dal viaggio di nozze. Intanto faccio preparare i documenti dal notaio. Va bene, ci vediamo presto. Bravo, eh? È stato un vero piacere. Copriti. Sia tranquillo, non mi ammalo. Ciao.